Non può tornare al caldo come faceva Colbasso perché tutti quei decori dei capelli, il muso del cavallo si sciocano. Perché credo che i cavalucci sono considerati la firma dei maestri. Ogni maestri fa un cavallo diverso, senza un modello, senza un stampo, a mano ed è da 500 anni fa che i maestri vettrai fanno dei cavalucci. Perché in questo modo mostravano il loro talento. Se un maestri può fare un cavallo con quel livello del taglio prima che il vetro solidifichi, può lavorare tutte le foglie fioide e i cavalcadari che sono l'oggetto più difficile lavorato. No, brava! Chi vuole toccare il cavallo? Adesso? Puoi? Tieni il mano per 3 secondi e il tuo! Certo! Complimenti! Penso che ha le mani da mianto. Normalmente la dimostrazione finisce qua. Grazie. Vedo che prendendo il vetro ancora non so cosa vuole... Cosa fai? Quello che vuole fare all'inizio. Grazie. 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 Grazie.